Come possiamo evitare che il cibo si attacchi nelle casseruole? Il cibo si attacca nelle casseruole. Perché motivo? Anzi, una serie di motivi. Una delle motivazioni è che il metallo che sta sotto al cibo riscaldandosi cambia in qualche modo sia chimicamente, sia fisicamente la superficie del cibo che è a contatto e generando una serie di sostanze che si attaccano al metallo stesso. Soprattutto se non si è in presenza di qualcosa che eviti o rallenti questo processo. Tipicamente un liquido. Un liquido che può essere l'olio, piuttosto che l'acqua, piuttosto che il burro, eccetera. Tenete presente che un liquido di questo tipo di solito ostacola, ma non impedisce. Quindi alla lunga un cibo si attaccherà comunque sulla superficie del fondo della casseruola anche se ci sono oli grassi o che poi alla fine diventano sempre oli o liquidi acquosi. Un'altra motivazione è una superficie crespa. Crespa non in modo, come dire, visibile ad occhio nudo, però se voi guardate la maggior parte delle superfici con un microscopio, non è che è una linea reatta come se fosse vetro, è quasi sempre una linea che al microscopio si vede crespa. Cosa succede? Che il cibo, infilandosi sempre in virtù di quelle trasformazioni chimico-fisiche date dalla cottura in queste increspature, poi nel momento in cui andiamo a interrompere la cottura, chiaramente quando tentate di staccarlo tutta sta parte che si è incuneata in queste increspature, sempre in termini microscopici, tenda a restare attaccata lì. Ed ecco l'origine dell'attaccatura. Quindi questa è una concausa, per così dire. La terza, alcuni metalli, provocando delle modifiche alla superficie del cibo intanto che lo stanno cuocendo, tendono a modificarsi loro stessi. Quindi, trasformazione minima, così quasi inarvertibile. Però ancora una volta, guardando al microscopio, qualcosa c'è. E questo qualcosa è ancora una volta una causa dell'attaccatura. Quindi il cibo non si attacca al fondo per un motivo specifico, ma per una serie di motivi, può essere il primo, il secondo, il terzo, e poi se ci mettessimo in laboratorio a fare uno studio su questa cosa, secondo me è salta fuori che uno scienziato ne trovo altri 7, 8, 9, 10 di motivi per cui il cibo si attacca. Allora, cosa possiamo fare? Non per impedire, perché guardate, non c'è verso di impedirlo, ma possiamo fare una serie di cose per ridurre la, come dire, la quantità di attaccatura. Intanto, la prima è l'esperienza. Cioè, chi cucina tanto e ha fatto tante prove in tanti contesti, tende a sapere di suo, senza sapere perché, che un certo cibo si attacca di più o si attacca di meno su certi metalli piuttosto che su altri. Per esempio, prendiamo un pomodorino, un pomodorino si attacca in un certo modo sull'alluminio, si attacca in un certo modo sull'acciaio, si attacca in un altro modo sullo stagno di un rame stagnato. Dici, perché? Che ne so, mica faccio lo scienziato, però cucino da vent'anni e ho visto che ogni volta che il pomodorino lo cuocevo nell'alluminio, lo cuocevo nell'acciaio, lo cuocevo sul rame stagnato, si attaccava in un modo diverso. Anche se io mettevo la stessa identica temperatura sotto, ovviamente, perché è chiaro che se cambiano le temperature poi cambiano le attaccature. Quindi, una risposta deriva dall'esperienza senza la relativa conoscenza scientifica del perché, perché servirebbe un analista, servirebbe avere un laboratorio alle spalle poi per capire come mai. Possiamo fare delle ipotesi, non sono solo ipotesi, non sono certezze. Per esempio, nel caso dell'alluminio, siccome l'alluminio è sempre crespo, non è mai liscio come l'acciaio, la prima cosa che mi viene da pensare è questa, cioè che essendo un materiale leggermente più crespo come superficie, non vorrei dire boroso, ok? C'è una maggior probabilità che il pomodorino si attacchi e che se ne attacchi di più, ma è una ipotesi, eh? Io non sono un scienziato e non ho un laboratorio chimico-fisico alle spalle. Va bene, detto ciò, Alcuni metalli, quindi, a parità di cibo, di ingrediente, di materia prima, si attaccano di più piuttosto che meno, ma quello specifico ingrediente, cioè, non è che l'alluminio si attacca di più sempre qualunque cosa tu ci metta sopra, si attacca di più il pomodoro, per esempio, la carota si attacca di più nella mia esperienza non si attacca granché di più rispetto all'acciaio. Il pomodorino è ben visibile. Il pollo si attacca di più rispetto all'acciaio sull'alluminio? Sì, a parità, ovviamente, di temperature, questo è chiaro. Cioè, ci sono sicuramente delle materie prime che vanno un po' meno bene con certi metalli. Adesso io, siccome cucino sia le carote sia la carne sia il pollo sia la salsiccia sia i fagiolini ma che posso avere di una certa misura della casseruola la casseruola in alluminio quella in rame stagnato quella in ferro quella in acciaio eccetera. Quindi io alla fine cosa faccio? Scelgo quel metallo che mediamente è più soddisfacente per il tipo di cucina che faccio io non in generale. Ma noi cosa possiamo fare? tagli perfetti con superfici piatte tendono ad attaccarsi di più su casseruole con superfici piatte è ovvio direi pure mentre tagli fatti più grossolani tendono ad attaccarsi di meno sulle superfici piatte e di più sulle superfici grossolane quindi l'abbinamento del taglio con la casseruola può ridurre la quantità di attaccatura però posso anche dirvi che quasi nessun cuoco lavora in questi termini cioè più delle volte noi tagliamo le cose come ci servono non in base a come si attaccheranno oppure no però se uno volesse fare un'analisi per dire questa sarebbe una regola che potrebbe essere utile conoscere seconda temperatura in generale ma non sempre più le temperature sono alte più il cibo si attaccherà io dico sempre eh ma come mai quando uso il rame stagnato la roba non si attacca di più eh perché il rame stagnato veicola molto di più il calore quindi tu quando usi il rame stagnato devi abbassare drasticamente la temperatura rispetto ad altri metalli per esempio l'acciaio veicola meno quindi a volte per avere una certa temperatura sull'acciaio tu sotto gli metti un fuoco più alto sul rame quel fuoco più alto ti distrugge tutto devi ricordarti di abbassare la temperatura quindi diciamo che in generale e l'ho preciso in generale la temperatura se è più bassa fa sì che il cibo si attacchi meno perché Francesco dici in generale in generale non sempre perché c'è un caso in cui invece se tu tieni bassa la temperatura il cibo si attacca di più lo so che può sembrare strano per esempio quando tu fai la carne sul ferro sul ferro c'è una certa temperatura se tu tieni la padella di ferro a quella temperatura prendi la carne ce la metti sopra e non la tocchi non si attacca quasi niente se tu abbassi troppo la temperatura perché hai paura di bruciare la carne la carne si attaccherà di più non chiedetemi perché sempre lo stesso motivo non sono uno scienziato non lo so perché però l'ho visto sperimentalmente un sacco di volte lo vedo tutti i giorni se la temperatura è troppo bassa la carne si attacca di più non si attacca di meno dici a me non è venuto così non lo so a me sì e viene così di continuo certo è chiaro che se alzo la temperatura fino al punto che poi la carne si bruci vabbè così è la vittoria di Pierro ho vinto io però la guerra è persa perché poi la carne è bruciata quindi devo trovare quella temperatura giusta sul ferro per cui la carne non si attacchi ma naturalmente non si bruci neppure altra regola se vogliamo evitare mediamente che il cibo si attacchi preferiamo sempre materiali lisci quanto più lisci possibile la padella saltapasta che mi consente di avere una bella mantecatura quando faccio la pasta saltata poi purtroppo proprio per la sua caratteristica di essere un po' crespa e quindi darmi molta mantecatura perché questo è il suo fine poi però se ci cucino qualcosa che non vorrei che si attaccasse o lo tengo costantemente in movimento intanto che lo cucino oppure si attaccherà non ci si può fare niente d'altro canto quella padella nasce con questa caratteristica proprio perché deve essere così perché perché se no non c'è mantecatura guarda caso se io uso una casseruola perfettamente liscia per saltare la vasta poi di mantecatura ne ho ben poca ne ho decisamente meno rispetto a quella d'alluminio con la superficie non liscia a specchio perché io devo sempre pormi la domanda di quale sia il mio obiettivo scegliendo un certo strumento piuttosto che un altro è l'antiaderente l'antiaderente per chi lo vuole usare lo usi e ovviamente il cibo non si attaccherà perché perché l'antiaderente non fa altro che rispettare questa regola e cioè tende a creare una superficie estremamente liscia in più inerte rispetto alle reazioni provocate sul cibo per evitare che non ci siano appigli a cui il cibo si può attaccare e non essendoci partecipazione della superficie della padella o casseruola rispetto al cibo ci sono anche qui c'è un abbassamento della probabilità che il cibo si attacchi ma Francesco perché a me si attacca anche nell'antiaderente e la mia risposta è mi fai vedere quest'antiaderente perché il problema qual è che molti comprano una padella per esempio di ceramica convinti che sia antiaderente magari da qualche parte purtroppo antiaderente c'è pure scritto quando in realtà non tutte le casseruole e padelle in antiaderente dichiarato sono realmente antiaderente per esempio quella in pietra anzi chi lavora con gli antiaderenti sa che proprio quando vogliamo un pochino di un minimo di attaccatura e qui potrebbe nasce la domanda ma perché dovrei volere un minimo di attaccatura ma questa poi è un'altra puntata del podcast sceglie quelle di pietra o certe ceramiche perché quelle nere sono antiaderenti quasi sempre e sul serio a prescindere da quello che c'è scritto quelle di ceramica qualche volta sono antiaderente qualche volta no a prescindere da quello che c'è scritto e quelle diciamo a composto di pietra perché in realtà non è che sono di pietra è sempre un composto in cui c'è della polvere di pietra assieme a tutto il resto e quelle quasi mai sono veramente antiaderenti così come lo sono quelle nere il coperchio tutti quelli che usano il coperchio come regola e non come eccezione si sono accorti di una cosa e cioè che quando si usa il coperchio il cibo si attacca meno ancora una volta perché non lo so non sono uno scienziato però posso fare delle ipotesi dovrei poi verificarle quindi non prendetele come verità scolpita nella dieta lo ripeto non ho un laboratorio che mi può supportare in questa cosa però tenendo il coperchio si forma vapore nella camera che si crea tra il cibo e il coperchio stesso il vapore fa sì che la cottura risulti velocizzata inoltre fa da materasso termico fa sì che il calore non salga troppo in più essendoci il vapore tutti quelli che cucinano così si sono abituati banalmente per abitudine a tenere la fiamma più bassa perché perché il vapore cuoce così tanto che più delle volte mi porta a risparmiare gas o elettricità se siamo sull'induzione abbassando le temperature quindi tutta una serie di cose cioè si crea tutto un contesto che fa sì che l'attaccatura sia ridotta quale di queste sia quella che motiva di più non ve lo posso dire appunto per il motivo detto prima non un laboratorio e sono mie ipotesi non sono certezze però conoscendo per esperienza i meccanismi i fenomeni che si attuano quando noi stiamo cucinando mi viene da dire così ok quindi coperchio tenete si abbassano le poi si può fare sempre no certo che non si può fare niente sempre ci sono delle situazioni in cui il coperchio non lo posso mettere se devo girare gi sotto devo girare gi sotto non posso farci nulla il coperchio non c'è altre cose che possiamo fare sì evitiamo che si formino delle righe sulle nostre casseruole lato interno dici beh ma io non le faccio invece sì perché perché vedo spesso le persone utilizzare la paglietta o la spugna dalla parte del verde una casseruola tenuta bene se sapete cucinare dovrebbe venire pulita solo con la parte gialla senza utilizzare quella verde dici perché Francesco perché quella verde anche se può sembrare strano anche se è plastica e non è medalla però è sufficientemente dura da creare delle micro righe persino sull'acciaio perché l'acciaio soprattutto se è acciaio inox ha una sorta di non so neppure io come chiamarla di pellico una sorta di pellicola che se voi andate a grattare non ve ne accorgete però in qualche modo gli fate delle lesioni delle ferite ci sono dei microscopici solchi e poi lì dentro ci si attacca il cibo appena ci metti un uovo che devi fare una frittata sei fregato in sostanza tentiamo di tenere quanto più possibile nuove le nostre casseruole in termini proprio di righe perché anche se può sembrare strano meno righe ci sono meno si attaccherà il cibo e l'ultimo consiglio sensibilità guardate a volte osservando semplicemente osservando il cibo mentre sta cuocendo mi accorgo di certe cose che è difficile spiegare come dire a voce o peggio ancora scrivere in un manuale io vedo che sta cominciando ad attaccarsi me ne accorgo e la muovo un po' è chiaro che io non posso passare tre ore ad osservare un brasato che sta andando però ogni volta che io posso essere in qualche modo presente perché magari sto facendo altre cose e sono comunque in cucina e gli buto un occhio oppure nelle fasi iniziali di una nuova ricetta che sto portando avanti oppure quando sto provando una tecnica di cottura che non conosco l'osservazione diretta è una cosa che spesso vi fa vedere dei fenomeni che non è possibile prevedere o spiegare scientificamente a priori dovete essere lì sul pezzo quello che dico sempre è che l'amore per la cucina si misura col tempo che voi date alla cucina non con i soldi che spendete per le materie prime anche quello ovviamente però se avete speso un sacco di soldi per le materie prime poi non gli date il tempo necessario la vostra presenza lì insomma il risultato sicuramente ne risentirà in qualche modo saluti baci abbracci e ci vediamo alla prossima puntata la prossima puntata Grazie a tutti.